Nella gloriosa guerra che l'America sostenne contro l'Inghilterra per rendersi libera si distinse il quartermaster general Poe che apparteneva a ragguardevole famiglia di Baltimora. Il figlio di questi stava studiando legge quando una sera a teatro vide Elisabetta Arnold un'attrice celebre più per la sua bellezza che per il suo ingegno. Vederla innamorarsene pazzamente sentire di non poter più vivere fu un solo punto. Lo studente lasciò la pandette e si fece artista comico per non separarsi dalla bellissima donna e allora cominciò la vita randasa per la città dell'Unione Americana. Davide Poe sposò la sua Elisabetta e sempre innamorato affrontò per parecchi anni il pubblico indifferente per l'artista molto mediocre. Ma dopo anni morirono l'uno dopo l'altro e rimasero soli tre orfanelli Enrico, Edgardo e Rosalia. Ma non mancarono persone pietose che li raccogliessero. Edgardo nato nel 1813 fu preso in casa da un negoziante agiato il signor Allan vecchio amico di famiglia che lo adottò e gli aggiunse anzi il proprio nome facendolo diventare Edgardo Allan Poe. Anche la signora Allan non avendo figliuoli lo teneva e l'amava come suo e i due coniugi essendo andati a fare un viaggio in Inghilterra condussero il fanciullo con loro e lo allogarono alla scuola di Stock Norton presso Londra. Quando tornò in America ed entrò all'università di Charlottesville si delineò il suo carattere e il suo ingegno. Era vivace ardente, innamorato dell'arte, entusiasta e stravagante e queste qualità aggrandirono nel peggior modo. Il professore E. A. Maineri, che ne scrisse la vita con indulgenza e con affetto, non nasconde difetti gravi che si manifestarono in questo giovane di istinti e passioni sinistre tumultuose, audaci. La fervida natura e lo straordinario ingegno, sdegnosi di freno, prorompevano già con pertinace violenza. Nei consigli sennati e severi parevano allentare la balda foga dei baldissimi anni. Da allora il gioco, la crapula e la sfrenatezza lo strinsero nelle loro spire e lo fecero colpevole di tali eccessi. La onda, l'attività scolastica, vide costretta ad espellerlo dall'universitario consorzio. Lo stesso Allan, l'amico e protettore suo, si era ormai scosso e spazientito alle ripetute scappate, facendo sentire di non volerne più sapere del pagare i debiti di gioco che Poe con grave sconsideratezza andava facendo, merce tratte spiccate sul nome di Allan. Allora, stizzito e stracco, lascia l'America e si avventura all'Europa in cerca di emozioni nuove, di più soddisfacente avvenire. È un'idea cavalleresca gli esprone e sembra compiacevolmente esaltarlo nei sogni di un classico passato. Lo commuovono i fasti della Grecia risorta, della Grecia che, emula delle eroiche virtù dei suoi maggiori, rompeva il gioco odiato del turco per rimettersi nel seggio delle civili nazioni. Ma il viaggio del Po in Oriente è incerto, misterioso e oscuro, e tra mezzo a scapigliature molteplici, eccolo, un anno da poi a Pietroburgo, dove pare che la rilassatezza dei modi e le giovanili ebrezze gli abbiam procurato nuovi disgusti, peripezie e novelle. Se non che per gli obbligati uffizi di Enrico Middleton, ministro americano, fatto libero dall'arresto in cui era in corso e ottenute dal medesimo gentilezze e sussidi, lascia la fortunosa Europa e nuovamente passa in America, dove, riabbonitosi con Allan, entra per il speciale sua cura nell'Accademia di West Point, il primo istituto militare come noto dell'Unione, nel quale tuttavia, incapace a rimettersi degnamente in sé, non tarda a cadere negli antichi falli, per i quali, casso al fine ed espulso, è costretto a dar nuovo indirizzo alla sua vita, in considerazione soprattutto delle mutate e difficilissime sue circostanze. Che era successo nel frattempo? Il signor Allan, rimasto vedovo, sarà ammogliato una seconda volta ed aveva avuto tre figliuoli. La nuova consorte non amava appunto Edgardo perché temeva che per causa sua si diminuissero le sostanze riservate ai suoi nati e dal canto suo, il giovane punse con epigrammi scortesi il suo benefattore, al punto di gravemente irritarlo. Nel 1834 Allan morì senza lasciare un soldo al giovane che aveva adottato e che si era reso indegno dei suoi benefici. La fame lo fece accorto che era poeta e che aveva scritte alcune poesie. Le pubblicò guadagnando qualche cosa. Poi entrò nel giornalismo, ma non era fatto per l'occupazione regolare. Infine si fece soldato nell'esercito federale, ma fugge in breve dalle bandiere e dalla disciplina. In quel torno l'editore dello Saturday Visitor di Baltimonia aveva pubblicato un concorso a premio per l'autore della miglior novella. Poe scrive il manoscritto trovato in una bottiglia, lo copia in carattere calligrafico e lo manda ai giudici. E questi metà per merito del racconto, metà per la bella scrittura che ne rendeva la lettura più facile, assegnarono il premio a lui, come al primo dei geni che aveva scritto leggibilmente. Fu quello il principio della sua fortuna. Il letterato Kennedy lo fece ammettere alla rivista letteraria Southern Literary Messenger e per alcun tempo parve metter senno. Ma dopo poco risorgeva l'antico ubriacone, tanto da rimanere per un'intera settimana sconciamente inebitito. Il Baudelaire volle trovare nell'ubriachezza la ragione del genere dei racconti di Poe e scrive, in molti casi, non certamente in tutti, io ho per fermo che l'ubriachezza di Poe fosse un mezzo mnemonico, un metodo di lavoro, metodo energico e mortale, ma proprio della passionata sua natura. Il poeta era sidato al bere, così come un letterato compito si esercita a far quaderni di note. E non poteva reggere, al disio di svegliarsi visioni meravigliose e terribili, quei sottili ed artificiati concepimenti che egli aveva incontrato in una precedente tempesta. Eran vecchie conoscenze che imperiosamente il traevano, ed egli, di buon uomo, per riappattumarsi con esse, pigliava la via più pericolosa, che era però la più dritta. E parte oggigiorno di ciò che forma, leggendo Il nostro fifo piacere e ciò che l'uccise. Passò poi di giornale in giornale, acquistando sempre maggior fama per le novelle stravaganti, fantastiche, assurde, alle quali vuol dar carattere di verità. Ma non cessava dalla vita sfrenata di Bagordi. E in un momento di lucido intervallo pensò di far giudizio col prender moglie e sposò la sua cugina, Virginia Clemen, che era tanto bella quanto povera. I buoni proponimenti durarono appena una breve luna di miele. L'alcol l'aveva già fatto suo schiavo. Un giorno credette di far fortuna con l'inventare una scienza nuova, quella di conoscere l'indole degli uomini dalla loro scrittura. aveva intitolato tale scienza La criptologia rivelata, ma presto tornava alle sue novelle, che uscivano dall'America ed erano tradotte in Inghilterra e in Francia, diffondendo il suo nome. Ma gli stravizi impedivano che potesse trar partito dalle occasioni della fortuna, ed era in profonda miseria quando la moglie Virginia morì. Fu in questo tempo che cominciarono a manifestarsi assalti del delirium tremens. Il veleno del suicidio indiretto apertamente cominciava a divorargli l'esistenza. Dizioso di mettere da sé in piedi una rivista e raggiungere quell'indipendenza che tanto stava gli a cuore, di essi alla speculazione delle letture pubbliche, che in parte il confortarono delle toccate sofferenze. La lettura del suo Eureka, poema cosmogonico in prosa, che suscitò vive ed importanti discussioni, venne fatta alla Society Library di Nova York a D. 9 gennaio 1848, in una lunga lezione di ben due ore e mezzo consecutive, di cui è del caso riferire alcune sue idee sulla cosmogonia dell'universo. Intendo parlare, sono sue parole, dell'universo fisico, metafisico e matematico, dell'universo materiale e spirituale, della sua essenza, della sua origine, della sua creazione, del suo destino. L'idea direttiva che mi studierò di far valere in questo libro si è che nell'unità originale della prima causa è riposta la causa secondaria di tutte le cose, insieme al germe, del loro inevitabile annichilamento. Ecco un aneddoto narrato dal Maineri, che vale a dare un'idea della singolare bizzarria del suo carattere. Era corsa voce che hai dovesse stringere matrimonio con una delle più famose donne della Nuova Inghilterra, cui aveva un tempo consagrato il suo amore e celebrato nei suoi versi. Pareva che la cosa non ammettesse più dubbi. Di fatto, un giorno, ecco come fassi ad apostrofarlo una sua amica. Vi faccio dunque le mie congratulazioni, signor Poe, per questo matrimonio. Incannate, amica, questo matrimonio non verrà mai fatto. Che, se io stessa ne udì le pubblicazioni alla chiesa? Lo credo benissimo, ma il matrimonio non sarà che una fiaba. E qual prova ne dà il Poe? Partito da New York, recasi nella città dove abita la supposta promessa sposa. Vattene la notte, riscaldato quindi da forti ribazioni, rendesi sotto le finestre della casa di lei. E lì a metter grida, a fare scene, ed altre si fatte sconvenienti diavolerie, senza fine. La polizia interviene, e il fatto si diffonde tra la disapprovazione generale. Il matrimonio è a monte. E di questa scena era si egli fatto attore la sera stessa che precedeva lo sposalizio. Cosa per lui naturale. Aveva mantenuto la parola data. Nell'agosto 1849, passato di Nuova York nella Virginia, imbattesi a Filadelfia coi sei vecchi camerati, che con le briose ricordanze del passato gli fan presto scordare i virtuosi propositi del presente. Per la qualcosa di essi ancora in braccio all'immoderata allegria, alla spensieratezza e, scialandola come meglio poteva, prorompene funesti i suoi eccessi. Consumatosi in l'ultimo quattrino e, trovandosi povero in canna, si leva a proponimenti sodi, vuol porsi a nuova, stabile e sennata vita. E parve darne prove vere ed efficaci, con entrare in una società di temperanza. Non passò molto tempo che Edgardo si gettò ancor più a capofitto nelle consuete dissipazioni. Alcuni amici pensarono di dargli moglie un'altra volta, per correggerlo, ma non furono in tempo. Era raggiunto al fine della sua vita logorata in si riprovevole e vergognosa guisa. Sulla sua morte scrive il Cinelli. Il 4 ottobre mosse verso il Nuova York per adempiere ad un impegno letterario e fargli apparecchi del suo matrimonio. Arrivato a Baltimora, diede la sua valigia ad un facchino con ordine di portarla ai carri che dovevano partire fra una o due ore per Filadelfia. Entrò intanto in una taverna a ristorarsi e trovò conoscenti che lo invitarono a bere. Dimenticati d'un tratto i suoi proponimenti ed obblighi, venne in poche ore a tale stato da doverlo portare all'ospedale, dove la sera di domenica 7 ottobre 1849 morì in età di 38 anni. E Baudelaire non parla di matrimonio e dice che il 4 ottobre, quando partì per Nuova York, si lagnava di brividi, di noiosa spossatezza, che la sera del 6, mandata allo scalo la sua valigia per recarsi a Filadelfia, entrò in una osteria a prendervi un liquore qualunque. Dove, trovate vecchie conoscenze, obbliò il viaggio, i sani propositi, se stesso, e vi passò la notte. E prosegue. Nel mattino, in sul primo punto dell'alba, un cadavere fu trovato nella via. Ci dovremmo spiegare diversamente? Bene, un corpo tuttora in vita, ma che era ormai stato impresso dal fatal marchio della morte. Su questo corpo, del quale signorava il nome, non si rinvenne né una carta né un quattrino, e fu trasportato all'ospedale. È lì che espirò Poe, la sera della stessa domenica, 7 ottobre 1849, nell'età di 37 anni, vinto dal delirium tremens. Questo terribile visitatore, che aveva già una o due volte tocco il suo cervello. Concluderemo col giudizio di Baudelaire sui suoi scritti. Nel seno di questa letteratura, dove l'aria era refatta, lo spirito può patire un'angoscia vaga, una tema pronta alle lagrime e quel malessere del cuore, che è proprio dei luoghi immensi e singolari. Ma fortissima si lega l'ammirazione e, d'altra parte, l'arte è si grande. Gli sfondi e gli accessori sono proprio ai sentimenti dei personaggi. Solitudine di natura o moti di città, tutto ivi è descritto con brio nervoso, con fantastica vena. A guisa di Eugenio de la Courant, che solleva l'arte sua all'altezza della grande poesia, Edgardo Po si compiace di muovere le sue figure sugli sfondi azzurri e verdastri dei quadri solenni, dove si distende la fosforescenza di corpi dissolventesi e si presenta l'avvicinarsi della tempesta. La natura cosiddetta inanimata partecipa alla natura degli esseri viventi e con essa è colta da brividi ed in paura per tremito soprannaturale e galvanico. E l'oppio misura lo spazio immane, e l'oppio dà un senso magico a tutte le tinte e fa vibrare ogni rumore con una sonorità più significativa e solenne. Di quando in quando scene di grande magnificenza, di quando in quando scene di grande magnificenza, sprazzate di luce e di colori incantevoli che s'aprono d'improvviso su intieri paesaggi, dove in fondo in fondo ai loro strani orizzonti vedi levarsi città orientali e forme architettoniche perdentesi in distanze, su cui il sole versa mirifico i mille colori della sua pioggia d'oro. I personaggi di Poe, o piuttosto l'ideale di Poe, l'uomo dalle facoltà acutissime, l'uomo dai rilassi nervi, l'uomo la cui volontà focosa e paziente lancia una sfida alle difficoltà più irte, quegli il cui sguardo si fissa con la durezza di una spada sugli oggetti che grandeggiano, man mano che li fissa, questo tipo, dico, è Poe stesso. Le sue donne, tutte luminose e malate, che muoiono dei mali più bizzarri, che parlano con voce che è suon musicale. Quelle donne non sono che lui, lui stesso, o almeno con le loro aspirazioni strane, con il loro sapere, con la eterna loro melanconia, fortemente partecipano alla natura del loro creatore. Quanto poi alla sua donna ideale, quella sua titanide, ella appare sotto aspetti differenti, ci mostra vari ritratti messi qua e là nelle sue poesie poco numerose, ritratti o piuttosto maniere di sentire la bellezza, che il temperamento dell'autore accosta e confonde, in vaga ma sensibile unità, e dove vive forse più delicatamente che altrove, quest'insaziabile amore del bello, che è il suo grande e vero titolo, o il sommario dei suoi titoli, all'affetto e al rispetto dei poeti.